... Persone, chiunque, a volte, morte, chiunque perciò si trovi all'esterno... ... Fin da quando ero piccola mi sembra sempre appassionata al mondo dello spettacolo, al cinema, alla televisione. Ad un certo punto della mia vita ho sentito l'esigenza di abbandonare le vesti di semplice fruitore di cinema... ...per capire cosa c'è dietro a questo mondo, i meccanismi che buonano appunto il cinema. Federico Greco posso dire che è stato un grande insegnante, mi ha fatto capire in piccolo cosa significa fare cinema... ...e com'è il mondo del cinema di fuori. Purtroppo non ho avuto un'esperienza molto positiva con un'altra accademia, però poi ho avuto la fortuna di incontrare il cineteatro... ...persone, oltre ad essere dei professionisti, ma anche degli appassionati. ...